So che sicuramente avrete delle domande, però mi sono presentato in primis per chiedere scusa ai tifosi, alla società e a tutti quanti che vivono il mondo a Ternana, perché penso che è dura da digerire, i tifosi ci hanno sempre sostenuto, ci hanno sempre accompagnato e sicuramente non siamo stati all'altezza. Vi chiedo scusa se magari non faccio fare domande, ma il mio era solamente un metterci la faccia e chiedere scusa. Vi ringrazio. Scusa, a nome di tutta la squadra, ovviamente.